Un'agenzia di viaggi sta cercando un collaboratore per l'ufficio. Attaccato alla vetrina dell'agenzia c'è un cartello con su scritto Cercasi collaboratore. Competenze richieste, sapere utilizzare il computer e conoscenza di almeno due lingue. Poco tempo dopo un cane appare trottando verso il cartello attaccato alla vetrina. Lo guarda, entra e comincia a fissare l'uomo dietro al bancone. Poi scodinzola un po', torna al cartello, abbaia un paio di volte e torna a fissare l'uomo dietro al bancone. L'uomo, superata l'iniziale incredulità, capisce le intenzioni del cane. Mi spiace caro cagnolino ma vedi stiamo cercando qualcuno che sia in grado di digitare al computer. Il cane si dirige al computer accanto al bancone e scrive una pagina intera. Sorprendente! Ma vedi caro cagnolino abbiamo bisogno di qualcuno che sappia usare anche la fotocopiatrice. Il cane si avvicina alla fotocopiatrice e comincia a fare fotocopie senza problemi. Accidenti! Sei un cane davvero straordinario! Mi hai sorpreso! Bravo! Ma c'è un ultimo problema. Il cartello dice che abbiamo bisogno di qualcuno che sappia parlare due lingue. A questo punto il cane si siede, guarda l'uomo negli occhi e fa... Miau!